La prima cosa che ti senti è quello di essere un inferiore agli altri, di essere diverso degli altri. Una platea di giovani che aveva voglia di partecipare ma anche di farsi ascoltare. Il diavai di testimonianze di chi ha subito vessazione e di chi questi abusi cerca di combatterli. Una lezione lontano dai banchi per gli alunni delle scuole secondarie di Barletta. Il messaggio che voglio mandare, soprattutto ai ragazzi che normalmente vengono bullizzati e anche agli spettatori, di non rimanere in silenzio. L'iniziativa legata al progetto testimoni di legalità attiva della prefettura della BAT ha affrontato al teatro Curci di Barletta la piaga del bullismo. Per scongiurare sul nascere questi comportamenti aggressivi e soprattutto incentivare la denuncia, la segnalazione. Sensibilizzare le nuove generazioni nel tentativo di far comprendere loro la sofferenza delle vittime di violenza e prevaricazione. Video e parole che tentano di arrivare dritto al cuore dei ragazzi. Uno Stato alleato dei giovani può essere indubbiamente il modo migliore per costruire quei percorsi di legalità nella semplicità ma nello stesso tempo nella tenacia.